che cavolo ancora chiuso ce l'ho c'è un po' qua è? qua è San Sostene a scendere dai 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 ai 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 sa dai ai 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 guarda il davanti dai dai che soddisfazione dai dai godi dai ci sto dietro dai andiamo bravo ci sei? ehi ehi fai il bravo buono ma se non so dove devo andare se non hai riferimento se non hai riferimento aspetto un attimo non ogni riferimento non断 non ma non io la rifare io la rifare se c'è il furgone andrei di nuovo sopra senza però senza fermarci che ne sono le 7 senza fermarci però gli chiediamo a francesco il favore io non so manco dove devo andare qua io non vedo niente dove sta? di la eh? vai 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 avanti che non so dove devo andare vai 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 tu che vado che sto andando come una lumaca che non so cosa fare oh che inserio oh 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 il canale ho preso ma ti rendi conto alla fine a prendere il canale meno male che so come scendere dalla bici la telecamera ha visto che ha abbracciato l'albero la telecamera ha visto che ha abbracciato l'albero libero la telecamera ha abbracciato l'albero del canale la telecamera ha abbracciato l'albero Grazie a tutti.